Vuoi vendere il tuo camion subito? Noi di Alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutte le età. Pagamento immediato e trattative trasparente. Abbiamo da noleggiare questa bellissima auto Maserati quattro porte, motore Ferrari. Come vedete la macchina è super sportiva, disponibile per il noleggio. Gli interessati, contattateci che la macchina è già disponibile presso la nostra sede. Vi faccio sentire un po' un attimo, gli interni sono bellissimi tutti in pelle, rossa, faccio sentire un attimo un'accelerata. Puoi vendere il tuo camion subito? Noi di Alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutte le età. Pagamento immediato e trattative trasparenti. Grazie. 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 Grazie.